L'argomento di cui vi parlo oggi è il cannabidiolo, il CBD. È un cannabinoide oramai molto conosciuto, forse il cannabinoide più studiato, proprio perché ha la possibilità di essere studiato in modo libero, non essendo una molecola stupefacente. Il cannabidiolo oramai viene proposto un po' ovunque per tantissime patologie. Io parto da un lavoro scientifico pubblicato recentemente nel mese di maggio che dice qual è il ruolo del cannabidiolo, del CBD nella terapia, nell'intervento terapeutico per le tossicodipendenze, per il substance use disorder, che praticamente sono le tossicodipendenze. Cioè è stata fatta una ricerca nelle varie attività di pubblicazione che ci sono online su PubMed, si è andata a vedere quanto e come viene utilizzato il CBD nelle tossicodipendenze per risolvere le tossicodipendenze. Nella dipendenza quindi da alcol, da eroina, da THC, da cannabinoidi, quindi da cocaina, anfetamina, metanfetamina, nicotina, morfina, quindi tutte quelle sostanze che sappiamo che agiscono sul nostro sistema nervoso centrale da una dipendenza. La cosa veramente interessante è che viene fuori che ciascuno delle ricerche, che ciascuno di queste ricerche che sono state pubblicate parla delle proprietà del cannabidiolo come proprietà come ansiolitica, antidepressiva, antipsicotica, quindi proprietà che conosciamo che possono essere utilizzate e sfruttate non solo nel campo delle tossicodipendenze, dove lì possono trovare il loro razionale, ma in tantissime delle patologie del sistema nervoso che noi conosciamo, quindi tutte le malattie neurodegenerative, ma le malattie neurologiche in generale. E la cosa ancora interessante che viene fuori sono le differenze sessuali, cioè come c'è proprio una differenza di genere nel funzionamento, ma questo è un argomento ulteriore su cui ci saranno altre ricerche, ma noi sappiamo che molti farmaci si comportano così, cioè noi sono studiati normalmente indipendentemente dal sesso su cui vanno agire, ma noi sappiamo che la chimica della donna, della femmina è diversa dalla chimica del maschio, per cui le biologie sono differenti, per cui sicuramente anche da questo punto di vista ci sono differenze. Il cannabidiolo come agisce? Il cannabidiolo a livello del sistema nervoso centrale ha delle azioni che sono estremamente interessanti, perché agisce in sinergia con tutto il sistema serotoninergico, quindi l'attività antidepressiva, ma non solo. Ha un'azione di abbassa l'attività eccitatoria, quindi glutamatergica, che hanno alcune sostanze, tra cui queste sostanze stupefacenti. Agisce sul sistema endocannabinoide in maniera indiretta, perché blocca l'attività degli enzimi che degradano gli endocannabinoidi e quindi aumenta la quantità di endocannabinoidi in circolo. Modula l'attività della morfina, quindi l'attività che dà dipendenza dalla morfina. Ha un'azione favorente ai recettori della dopamina. Noi sappiamo quanto è importante l'utilizzo, ad esempio, del CBD nei pazienti che hanno deficit di dopamina, quindi nelle forme di Parkinsonismo, ha un'azione favorente alla neurogenesi sull'ippocampo, quindi perché va ad agire in modo particolare, quindi favorisce anche la neurogenesi, quindi nei deficit di memoria e favorisce la liberazione di fattori neurotrofici cerebrali, aumenta alcune chinasi, insomma non entriamo nello specifico, però ha un'azione veramente interessante. Ma l'azione, diciamo, si svolge poi là dove si svolge la partita più importante nelle malattie neurologiche e comunque nelle dipendenze e comunque anche nelle malattie neurodegenerative, cioè sull'area tegmentale ventrale, sul nucleacumbens, sull'ippocampo, sulla mygdala e sulla corteccia parifrontale, quindi un'area estremamente importante nel nostro cervello che è coinvolta in tantissime patologie, tra cui l'abuso di sostanze, ma che diventa sensibile all'utilizzo del CBD. Quindi sicuramente il CBD è un prodotto, è una molecola che va presa in considerazione per il trattamento di molte patologie neurologiche, ha il vantaggio di essere molto sicura e quindi non ci dà problemi perché è molto maneggevole, non ha di fatto effetti collaterali. La raccomandazione che faccio sempre è quella di utilizzare un CBD farmaceutico, cioè quello che noi troviamo in giro, se ne trova tanto CBD in giro, lo vendono i tabacchini, chiunque vende CBD, stiamo attenti perché non sappiamo la provenienza di questo CBD, non sappiamo realmente cosa c'è dentro a questi bottiglini perché le aziende non sono tenute a vendere, che ci sia corrispondenza tra ciò che c'è scritto sull'etichetta e quello che c'è dentro perché non sono prodotti né alimentari né farmaceutici, per cui io vi consiglio sempre rivolgetevi al medico che conosca la farmacologia del CBD, la farmacocinetica, la farmacodinamica e fate sempre prescrizioni da poter poi ritirare in farmacia in modo tale che abbiamo la certezza che sia un prodotto certificato e sicuro sulla nostra salute.